Ancora profughi in arrivo e ancora una volta la marca chiamata all'accoglienza, secondo le previsioni del Ministero dell'Interno ne potrebbero arrivare da qui alla fine dell'anno oltre 500, un'emergenza davvero senza fine. Decisamente no, ho sempre detto di no e resta no. Abbiamo 42.000 immigrati che si sono integrati, venuti qui in passato in Veneto senza lavoro, dei 170.000 disoccupati, non capiamo per quale motivo dobbiamo ancora accettare profughi. Visto e considerato che siamo la regione in Italia tra le prime tre ad avere più immigrati rispetto alla popolazione. 514.000 sono gli immigrati in Veneto, quindi no i profughi, si aiutino a casa loro perché se abbiamo 42 euro al giorno da dare a un profugo è meglio che gli diamo i veneti che soffrono e che non hanno di che mangiare. Gli appelli del prefetto evidentemente non sono serviti a nulla. A Treviso non c'è più posto, aveva tuonato Maria Augusta Marrosu, con lei altri colleghi delle prefetture del Veneto. Bisogna continuare a fare opposizione, benvenga l'opposizione dei prefetti che hanno fatto opposizione, la tengano al fronte perché sindaci, prefetti, presidenti di regione siamo tutti sulla stessa posizione. Vedrete, continua Zaia, che dopo le elezioni i funzionari governativi saranno rimossi, come dire, i profughi scacceranno i prefetti. Si fa il prefetto anche quando si riconoscono le istanze di un territorio, non basta rispondere di sì a Capocchino a Roma, per cui saremo lì anche a difendere questi prefetti se qualcuno li vuole a spostare. Grazie.